Ho parlato con i capi Rom, mi hanno assicurato che faranno rispettare la quarantena. Da sindaco non avrei mai autorizzato il rito funebre. Parla il presidente della regione Toma, lo fa in un'intervista rilasciata questa mattina all'ADN Kronos dopo il polverone sollevato da più parti all'indomani del caso dei Rom contagiati. Un'impennata dei positivi che ha richiamato l'attenzione di tutti i media nazionali che hanno riacceso i riflettori sul Molise spostando però nettamente il tiro. Da regione presa ad esempio per il numero contenutissimo di contagiati a maglia nera per l'improvvisa retromarcia a pochi passi dalla fase 2. Siamo ancora una regione virtuosa ha spiegato Toma e un centinaio di casi a Campobasso che conta 50.000 abitanti non costituiscono un'emergenza. In questo momento ha aggiunto le cifre sono ancora gestibili dalla protezione civile e dal sistema sanitario. La preoccupazione è legata al fatto che sono famiglie numerose e dobbiamo evitare discriminazioni perché poteva capitare a tutta la comunità. Poi l'affondo sul sindaco Toma ha rivelato che durante una riunione gli ha chiesto ma che cavolo hai fatto? Secondo il presidente della regione il sindaco ha una sua tesi ma non ritengo sufficienti ha dichiarato Toma le sue giustificazioni conosciamo tutti la comunità Rom ha rimarcato il governatore che ci sia stato un comportamento irresponsabile da parte chi è andato a dare le condoglianze che la vigilanza doveva essere molto più attenta e che la competenza sul territorio e del sindaco sono cose oggettive ma ha concluso il presidente del senno di poi sono piene le fosse. Il nuovo focolaio appare molto circoscritto anche se le voci sui possibili contatti avuti dai Rom si inseguono ormai da giorni. I dati al momento dicono che i contagiati sono solo di quella comunità e che peraltro tra i positivi ci sono anche tanti giovani e alcuni bambini hanno contratto il coronavirus e questa oggettivamente non può essere una colpa.